Ciao a tutti e ci eravamo fermati dove abbiamo fatto quel casino a Fort Capoelles, Capoelles giusto mi sono dimenticato il nome dove quel pigoletto si è messo a rompere le scatole perché si annoiava sulla barca e quindi abbiamo dovuto insegnare addirittura a tenere in mano un fucile la descrizione dice tu correrai quindi vuol dire che dovremo correre in qualche modo vedremo scusate che non ci fanno... e adesso? questo non è australiano forse perché noi siamo andati in battaglia e tu no? testa di... un messaggero, ho detto anche abbiamo bisogno di qualcuno che sia disposto a farci succedere tu? vai! eh, tu? no, niente mi serve e questo è quello che mi aspetta un messaggero cosa fa? cammina, sta fermo va con lo slittino giù per la montagna che deve fare? andiamo, andiamo, andiamo devo... che devo fare? sparare e levativi un po' oh, uno l'ho ucciso dai, superare quelle otto mani ah, tu non sei ancora morto ah, sei resistente eh? e sparatemi almeno, aiuta che cavolo, sto già morendo che che è sta vergogna? allora, io dovevo arrivare lì ah, una moschè che per cazzo una moschè distrutta andiamo col fucile il problema è da dove passo? da dove passo? dove c'è meno gente? però, magari non fanno neanche se ci... se non ci sia gente bene qua non vedo nessuno in caso estremo gli spariamo il problema è scusa ma lancia un'esca ah, ma quello la non sa... ah, non sanno che sono in guerra quindi... cavolo è questo spazio è troppo entra, entra, entra se ne sono accorti? io sono entrato in casa ma... ma non so neanche io perché oh oh ho senso che devo essere arrabbiate quindi andiamo? tenete niente grazie cavolo eh si, eh si se ne sono accorti se ne sono accorti altro? no se vi era un fucile a cecchino qua ma non lo trovo macerie ma questa è quella scommetto che era una bella casa un tempo ti ho visto ah, quello lì è un fucile a cecchino non buttarti all'asse e si scrive e l'ha fatto quello lì, quello lì aveva c'è qualcosa, qualcosa che ci spa merda ci stiamo qui però il problema è dov'è? qui qualcuno aveva droppato una eccolo qua via 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 ma perché prendi questo? ma... ma dimmi te prendi il fucile a canne fumanti si ma da dove si spara da dove si spara fermo fermo male questa qua non è una carabina e questa è male ci siamo qua ma mi sa che siamo un po' incastrati vabbè il tipo è morto si è morto è morto è morto e trovo anche munizioni intanto non potrei essere più soddisfatto forse dovrei cambiare arma quella del fucile a cecchino nessuno neanche qui nessuno perfetto tutto un un bel viaggetto silenzioso senza che nessun senza che nessun turco ci interrompa ah bello andiamo andiamo raccogliamo qualche fiore per portare a portarcene a casa in Australia devo arrivare ai bagni lo sa ah beh è da un po' che non va in bagno questo qui non ho mai visto nessuno andare in bagno ottieni in airport si qui si mette proprio male perché? ah forse perché c'è un casino di gente noi siamo messi cazzo non ci ha visto eh ci ha visto ma perché tutti ci vedono? ma non potete farvi i cazzo vostri tac oh oh non shotta non shotta questo qui malissimo e cavolo non è una carabina e non shotta ma cosa sei tu? un mostro un'arma si sento che sento proiettili che ci noo fermo lì dove sei andato? prima o poi sparerai e io vedrò il tuo sparo e ti ucciderò avanti sparami ci ho visto perché che come funziona questo mirino? oh ma ho problemi ho problemissimi questo mirino qui take my pre oddio l'ho ucciso vabbè vabbè l'ho ucciso con un con un come si chiama con un fucile a pompa che era lontano tipo 200 metri apri la porta comunque delicato ho ottenuto un po' di munizioni per questo qui 100 il centro di vita non ho subito nemmeno danno eh però qua non ci sono non ci sono bauri di munizioni mannaggia chi è che spara? dico 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 andiamo di qua lì perché lì 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 avete visto avete visto come fu... questo qua era inglese quindi non sono nemici oh panti dai dammi 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 granata da fucile no vabbè dai sempre meglio di qua ho bene 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 amici benissimo e tu sei inglese ok no 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 qua c'è un'arma qua c'è un'arma quel cavolo bene oppure qua c'è ma... no le mazze non è una brutta storia con loro poi c'era una fontana c'era una fontana un tempo di acqua scommetto o di coca vedo tutti cristo santo si che è qua tutti i miei con nero già torna fai il rapporto all'ufficiale comandante da... andiamo indietro andiamo... no 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 può andare tutto oh 30 munizio vi spacco la voca a tutti andiamo andiamo fuori dalle scatole ah qua c'è... anche qua ce n'è uno la l'avevo già controllata pensavo si è chiusa da sola ora torniamo come siamo arrivati ossia tra il casino generale perché quello abbiamo fatto abbiamo fatto solo casino non abbiamo ma sti qua tornano anche indietro ma siete delle ben... andate avanti il nemico è dall'altra parte oppure oppure gioiellino ci si rivede eh il problema è che non vedo nemici è questo il brutto controlliamo lì c'è l'ufficiale generale e io non vedo nemici quindi secondo i miei calcoli che sono 100% non... no 99% non accurati non dovete trovare nemici ma per adesso se la sto facendo eh qua quanti maledetti sono? oddio nooo questa questo è il mitra questo qua è il mitra supremo addirittura al mirino e allora siamo cos'è stato? andate avanti a combattere io sono uno di voi bisogna tornare da adesso dai che va dai che va dai che... oh mori? eh si è morto alla fine altri ce ne sono va avanti va avanti tronzo eh ti stai operando dalla parte sbagliata? non dovrei farlo ma non posso andare di corsa e basta perché dobbiamo tornare indietro sto facendo un casino con i comandi perché in ogni gioco devo fare beh sentivo qualcosa che mi sparava ho detto wow e lì c'è? un turchese morto nooo ah è qui è qui è qui il come si chiama? dicevo l'avamposto del comandante e non l'avamposto comandante qui c'è un mitra cavolo ma usalo ma cosa hai in testa? ma dimmi te quando quando la testa non serve a niente eh si però anch'io lo uso di merda eh finiti ora devo andare di là però se non gli sparate è ovvio che non muoiono eccolo lì ma quello lì eh? ah sto qua spara spara è semi automatica spara a tre colpi alla volta eh vedete? così trova trova oh sei sparito? eh permesso cosa? e spare oh pulatone eh? pulatone eh? ma va pfff potevi ammazzarmi ti ho salvato la vita ma sei ingrato di e lui dove è andato? ho visto là e insomma io ah e lui mi ha visto? e da dove? e dov'era scusa? non mi ha aiutato? è in ritirata ovunque attorno fuori grazie bella ospitalità informa al comando delle retrovie devo sempre sbagliare una parola questa qua ormai ha finito le munizioni quindi tanto vale andare di fucile a pompa individuatore quindi c'è uno strano silenzio qua perché? non ci sono nemici non ci... c'è solo un po' di erba per terra dei fiori da poter raccogliere qua c'è dove sono tutti? voglio il cavallo 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 punto e bar no non così così adesso si che siete fottuti eh le postazioni delle armi contengono lo sooo è lì che ho scoperto il mitra... il mio primo mitra semiautomatico ok basta così eh adesso il cavallo si butta giù leggi ordini ma che cavolo ma che cavolo ma porca puzza dove dov'è il cavallo dov'è il cavallo dov'è il cavallo avvisa i cavallesi colpiscono la loro posizione per coprire la ritirata ma che cavolo andiamo 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 eeeh non sai passare un ostacolo ma che cavallo sei chi ti ha su? veloce 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 ci stanno fottendo tutto però vedere un estrellino con una spada in mano mi sembra tanto e che casin... e ma sono puntualissimi questi qui eh potevano aspettare un pochino no quando devono colpire nemici vanno sempre in ritardo quando devono colpire noi puntuali o forse anche in anticipo togliamo la moschea vado 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 non mi interessa se mi individuano o meno vai 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 white hole no fuori eeeh cavallo resta lì resta lì difendi il fronte dove? dove? e qui ci serve aiuto non ora qui ci serve aiuto ma che ca... preparatevi uomini dove 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 fermo fermo io ho la mia arma suprema che spara tre colpi alla volta così quasi non posso neanche... non posso neanche andare via a robarli un'arma cavolo o forse si dov'è la matzen? dov'è la matzen? la prima e unica volta che ho bisogno di quell'arma del... è il mirino che mi fa schifo non è tanto l'arma ecco qua ha anche abbastanza munizioni eh ma non ditemi che state crollando senza di me ti ho visto oh ma no colpito allora a ritirarsi sono i più forti di tutti ti ho visto che peccato gran peccato quello ho preso sto andando bene eh gli temi di sì i temi di sì ho preso spingiamoli eeeh voglio vedere pre... ma quanto è facile sono proiettili che mi passano dov'è la granata? non è sotto i miei piedi che cavolo sono troppo vicini meglio spingere di con... no 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 qui non si può andare avanti e spara di tu cosa stai di riparato a non far nulla preston garvey La peggiore offesa da fare a un NPC Presto un Garvey Ho visto uno che si adentrava in quelle zone oscure Ecco Brava palata Ops, scusa Scusa, scusa Ti ho fatto male E infatti dopo è morto Non perché gli ho sparato io ma perché l'ho distratto forse Bel colpo, eh grazie Se non sarei qui se non fosse un bel colpo In che senso? Obiettivo completato Fine? Fine? E ora? Ah vai tu sei arrivato fin qua veramente in fretta Bombarderanno le vila Andiamo Eh ma allora sei un testa di cazzo Foster Dai, dai Dai, dai, dai Quanto scommettiamo? Eh, beh in effetti Vai a presidere Andiamo a presidere forte Con quali armi? Uno sul zicadenti Ed il nostro adesivo Ok E cosa ci fai con quelli? Un fucile? Sto confondendo due giochi Va bene Sì che vuoi Un altro cadavere sulla coscienza Eh, andiamo a dirvi Levatevi da lì che vi stanno per bombardare Con 7000 bombe atomiche Oppure ce ne stiamo qui a giocare a Brescola Ed ecco come finisce la missione Fai attenzione Fai attenzione No Il porta ordini Ho sbagliato Ovviamente quel cavolo di Whiteone non ha niente da fare Quindi manda gente a caso sui forti da presidiare Che verranno abbattuti Due minuti dopo Perché? E ora dobbiamo andare a salvare tutti Perché qua l'altro ha combinato nulla Mentre lui se ne sta al calduzzo A bere A farsi l'ora del tè Vedremo nel prossimo episodio Come andrà a finire